Buongiorno, buongiorno Ciao Vai! Grande! Isa Un cinefoni a Cavagane Monte San Salvatore Cima guadagnata Bella, bella, bella Eccoci qua E ora si va a Madonna dell'Alto Maris Grazie a buongiorno Fla Grazie a tutti. un trenino stupendo spettacolo spettacolo da dietro è stupendo il giudizio di questo pezzo bellissimo tre occhiolini erano le serpentine poi da grande che facciamo adesso? un trenino stupendo salute ragazzi vino ce n'è ancora è appedalato tanto e che c'è qua complimenti vi apro un po' con la finestra stupendo così vogliamo un'amorata ero un'amorà culturale ora ora hai fatto il mio occhio minchia buona merda sei una merda no la ruota davanti dentro ma la 26 ci vuoi ma che fatele 26, 24 ahahahah arrista la mucca è breve la grunta dell'escursione ah vabbè angolo basso vai da sola dai vai 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 da sola buona strada trovi da te ahahahah orta lì che vuoi uscire non ci 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 vuoi uscire